Vi rinforzate ogni mattina! Ok, ragazzi, c'è bisogno di noi! Superfermenti avanti! Obiettivo rinforzo! Eh sì, Acti Meldi Danone, con più di un miliardo di superfermenti vivi, aiuta a rinforzare le difese naturali. Perché nella vita l'importante è essere forti dentro. Acti Meldi Danone, il tuo rinforzo ogni mattina. Effetti positivi testati scientificamente. Grazie a tutti!